buonasera dove stiamo andando? al Bosco delle Favole Casino mancano 25 minuti siamo arrivati? siamo arrivati? quanto manca? vedete l'ho chiesto solo 22 volte anche il piccolino ha iniziato a chiedere siamo arrivati? mamma siamo arrivati! dillo a papà papà siamo arrivati? no! siamo arrivati? no! siamo arrivati? no! quando arriviamo? siamo arrivati? no! noi tanto per cambiare abbiamo sfidato i nuvoloni ormai il nostro stile ormai il nostro stile sembra talcoma eh? sembra un datillo siamo arrivati? no! lo so che vuoi farci scelta no! lo so! lo so! lo so! ma ci devi sopportare! tre cocuini e mezzo in viaggio! siamo arrivati? quasi! sono venuti! che bello! ecco qua l'abbazia di Monte Cassino siamo arrivati? sì! minumale! biglietto fatto pagano solo gli adulti Giuseppe non ha pagato perché ha tre anni grazie a tutti! 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 allora praticamente Giuseppe non aspetta altro di incontrare capitano Uncino c'è un cino un cino o un cino? c'è anche spugna! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.